Appunto Maria Reggiale insieme ai suoi musicisti, il Pasquale Amiglio innanzitutto hanno cominciato a preparare per questo spettacolo nel tempo di una donna che si sta componendo, Work in Progress, per la regia di Riccardo Cavallo che è un regista laico anche come suonatrice culturale ma che è stato molto provocato artisticamente da questo testo e quindi ha accettato di misurarsi con questa cosa anche per lui un po' nuova e come nasce il testo è meglio che lo dico io perché mi ricrevo di una donna che non lo potrebbe fare Allora vi dico proprio brevemente